era una notte che pareva fatta apposta un'oscurità cagliata che a muoversi quasi se ne sentiva il peso e faceva spavento respiro di quella belva che era il mondo il suono del mare un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi stavano con le loro valigie di cartone e i loro fagotti su un tratto di spiaggia pietrosa riparata da colline tra gela e licata vi erano arrivati all'imbrunire ed erano partiti all'alba dai loro paesi paesi interni lontani dal mare aggrumati nell'arida plaga del feudo qualcuno di loro era la prima volta che vedeva il mare e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto da quella deserta spiaggia della sicilia di notte ad un'altra deserta spiaggia dell'america pure di notte perché i patti erano questi io di notte vi imbarco aveva detto l'uomo una specie di commesso viaggiatore con la parlantina ma serio e onesto nel volto e di notte vi sbarco sulla spiaggia di new jersey vi sbarco a due passi da nuova york e chi ha parenti in america può scrivergli che aspettino alla stazione di chenton dodici giorni dopo l'imbarco fatevi il conto da voi certo il giorno preciso non posso assicurarvelo mettiamo che c'è mare grosso mettiamo che la guardia costiera stia a vigilare un giorno più o un giorno meno non ve fa niente l'importante è sbarcare in america l'importante era davvero sbarcare in america come e quando non aveva poi importanza se ai loro parenti arrivavano le lettere con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste sarebbero arrivati anche loro chi a lingua passa il mare giustamente diceva il proverbio e avrebbero passato il mare quel grande mare oscuro e sarebbero approdate agli stori e alle farme dell'america all'affetto dei loro fratelli zii nipoti cugini alle calde ricche abbondanti case alle automobili grandi come case 250.000 lire metà la partenza metà l'arrivo le tenevano a modo di scapolari tra la pelle e la camicia avevano venduto tutto quello che avevano da vendere per racimolarle la casa terragna il mulo l'asino le provviste dell'annata il canterano le coltri i più furbi avevano fatto ricorso agli usurai con la segreta intenzione di fregarli una volta almeno dopo anni che ne subivano angaria e ne avevano soddisfazione al pensiero della faccia che avrebbero fatta nell'apprendere la notizia vieni a cercarmi in america sanguisuga magari ti ridò i tuoi soldi ma senza interesse se ti riesce di trovarmi il sogno dell'america traboccava di dollari non più il denaro custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la camicia e la pelle ma cacciato con non curanza nelle tasche dei pantaloni tirato fuori a manciate come avevano visto fare ai loro parenti che erano partiti morti di fame magri e cotti dal sole e dopo venti o trent'anni tornavano ma per una breve vacanza con la faccia piena e rosea che faceva bel contrasto coi capelli candidi erano già le undici uno di loro accese la lampadina attascabile il segnale che potevano venire a prenderli per portarli sul piroscafo quando la spense l'oscurità sembrò più spessa e paurosa ma qualche minuto dopo dal respiro ossessivo del mare affiorò un più umano domestico suono d'acqua quasi che vi si riempissero e vuotassero con ritmo dei secchi poi venne un brusì o un parlottare sommesso si trovarono davanti il signor melfa che con questo nome conoscevano l'impresario della loro avventura prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra ci siamo tutti domandò il signor melfa accese la lampadina fece la conta e mancavano due forse ci hanno repensato forse arriveranno più tardi e peggio per loro in ogni caso e che ci mettiamo ad aspettarli col rischio che corriamo tutti dissero che non era il caso di aspettarli se qualcuno di voi non ha il contante pronto ammonì il signor melfa è meglio si metta la strada tra le gambe e se ne torni a casa che se pensa di farmi a bordo la sorpresa sbaglia di grosso io vi riporto a terra come vero dio tutti quanti siete che per uno debbano pagare tutti non è una cosa giusta e dunque chi ne avrà colpa la pagherà per mano mia e per mano dei compagni una pestata che se ne ricorderà mentre campa se gli va bene tutti assicurarono e giurarono che il contante c'era fino all'ultimo soldo in barca disse il signor melfa e di colpo ciascuno dei partenti diventò una informe massa un confuso grappolo di bagagli cristo e che ve siete portata la casa presso cominciò a sgranare bestemmie e finì quando tutto il carico uomini e bagagli si ammucchiò nella barca col rischio che un uomo o un fagotto ne traboccasse fuori e la differenza tra un uomo e un fagotto era per il signor melfa nel fatto che l'uomo si portava presso le 250.000 lire addosso cucite nella giacca o tra la camicia e la pelle li conosceva lui li conosceva bene questi contadini zaurri questi vellani il viaggio durò meno del previsto undici notti quella della partenza compresa e contavano le notti invece che i giorni poiché le notti erano di atroce promiscuità soffocanti si sentivano immersi nell'odore di pesce di nafta e di vomito come in un liquido caldo nero bitume ne grondavano l'alba stremati quando salivano ad abbeverarsi di luce e di vento ma come l'idea del mare era per loro il piano verdeggiante di messe quando il vento lo sommuove il mare vero li atterriva e le viscere gli si strizzavano gli occhi dolorosamente verminavano di luce se appena indugiavano a guardare ma all'undicesima notte il signor melfa li chiamò in coperta e credettero da prima che fitte costellazioni fossero scese al mare come greggi ed erano invece paesi paesi della ricca america che come gioielli brillavano nella notte e la notte stessa era un incanto serena e dolce una mezza luna che trascorreva tra una trasparente fauna di nuvole una brezza che dislagava i polmoni ecco l'america disse il signor melfa non c'è pericolo che sia un altro posto domandò uno poiché per tutto il viaggio aveva pensato che nel mare non ci sono né strade né tra zere ed era da dio fare la via giusta senza sgarrare conducendo una nave tra cielo ed acqua il signor melfa lo guardò con compassione domandò a tutti e lo avete mai visto dalle vostre parti un orizzonte come questo e non lo sentite che l'aria è diversa non vedete come splendono questi paesi tutti convennero con compassione e risentimento guardarono quel loro compagno che aveva osato una così stupida domanda liquidiamo il conto disse il signor melfa si frugarono sotto la camicia tirarono fuori i soldi preparate le vostre cose disse il signor melfa dopo aver incassato gli ci vollero pochi minuti avendo quasi consumato le provviste di viaggio che per patto avevano dovuto portarsi non restava loro che un po di biancheria e i regali per i parenti d'america qualche forma di pecorino qualche bottiglia di vino vecchio qualche ricamo da mettere in centro alla tavola o alle spalliere dei sofà scesero nella barca leggeri leggeri ridendo e canticchiando e uno si mise a cantare a gola aperta appena la barca si mossa e dunque non avete capito niente si arrabbiò il signor melfa e dunque mi volete fare passare il guaio appena vi avrò lasciati a terra potete correre dal primo sbirro che incontrate e farvi rimpatriare con la prima corsa io me ne fotto ognuno è libero di ammazzarsi come vuole e poi sono stato ai patti qui c'è l'america e il dovere mio di bottarveci l'ho assolto ma datemi il tempo di tornare a bordo cristo di dio gli diedero più del tempo di tornare a bordo che rimasero seduti sulla fresca sabbia indecisi senza saper che fare benedicendo e maledicendo la notte la cui protezione mentre stavano fermi sulla spiaggia si sarebbe mutata in terribile agguato se avessero osato allontanarsene il signor melfa aveva raccomandato sparpagliatevi ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli altri e trenton chissà quant'era lontana chissà quanto ci voleva per arrivarci sentirono lontano e irreale un canto sembra un carrettiere nostro pensarono e che il mondo è ovunque lo stesso ovunque l'uomo spreme in canto la stessa malinconia la stessa pena ma erano in america le città che balugginavano dietro l'orizzonte di sabbia e d'alberi erano città dell'america due di loro decisero di andare in ama scoperta camminarono in direzione della luce che il paese più vicino riverberava nel cielo trovarono quasi subito la strada asfaltata ben tenuta qui è diverso che da noi ma per la verità se l'aspettavano più ampia più dritta se ne tennero fuori a evitare incontri la seguivano camminando tra gli alberi passò un'automobile pare una seicento e poi un'altra che pareva una millecento e un'altra ancora le nostre macchine loro le tengono per capriccio le comprano ai ragazzi come da noi le biciclette poi passarono assordanti due motociclette una dietro l'altra era la polizia non c'era da sbagliare meno male che si erano tenuti fuori della strada ed ecco che finalmente c'erano le frecce guardarono avanti e indietro entrarono nella strada si avvicinarono a leggere santa croce camarina scoglitti santa croce camarina non mi è nuovo questo nome pare anche a me nemmeno scoglitti mi è nuovo forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava forse mio zio prima di trasferirsi a filadelfia che io ricordo stava in un'altra città prima di passare a filadelfia anche mio fratello stava in un altro posto prima di andarsene a brooklyn ma come si chiamasse proprio non lo ricordo e poi noi leggiamo santa croce camarina leggiamo scoglitti ma come leggono loro non lo sappiamo l'americano non si legge come è scritto già il bello dell'italiano è questo che tu come è scritto lo leggi ma non è che possiamo passare qui la nottata bisogna farsi coraggio io la prima macchina che passa la fermo domanderò solo trenton qui la gente è più educata anche non capire quello che dice e ci scapperà un gesto un segnale e almeno capiremo da che parte è questa maledetta centon dalla curva a 20 metri sbucò una 500 l'automobilista se li vide guizzare davanti le mani alzate a fermarlo frenò bestemmiando non pensò a una rapina che la zona era tra le più calme credete volessero un passaggio aprì lo sportello trenton domandò uno dei due che fece l'automobilista centon che trenton dalla madonna imprecò l'uomo dell'automobile parla italiano si dissero i due guardandosi per consultarsi se non era il caso di rivelare a un compatriota la loro condizione l'automobilista chiuso lo sportello rimise in moto l'automobile balzò in avanti e solo allora gridò ai due che rimanevano sulla strada come statue ubriacone cornuti ubriaconi cornuti e figli di il resto si perse nella corsa il silenzio dilegò mi sto ricordando disse dopo un momento quello cui il nome di santa croce non suonava nuovo a santa croce camarina un'annata che dalle nostre parti andò male mio padre ci venne per la mietitura si buttarono come schiantati sull'orlo della cunetta che non c'era fretta di portare agli altri la notizia che erano sbarcati in Sicilia